Penso che è una delle migliori gari che abbiamo fatto fino a oggi. Grande intensità, grande qualità, grandi giocate di squadra con le singole. Sì, forse è una delle migliori partite. Sono molto contento dei ragazzi, i ragazzi stanno lavorando forte, soprattutto durante la pausa. Andavano forti, c'era grande intensità, c'era grande qualità e oggi le hanno portate in campo, sono molto contento di loro. Era la ripartenza che ci aspettavamo, perché stiamo lavorando bene, c'è una bella chimica tra noi, si respira quotidianamente, lavoriamo forte, soprattutto i ragazzi più vecchi sono il nostro motore, trascinano tutti, tutti i giorni sempre là davanti a lavorare forte. Ci sono delle belle sensazioni, ma questa partita insegna che quando abbassi un po' la soglia dell'attenzione si prende gol e ci deve essere anche da questa parte un po' di insegnamento.